Ciao a tutti da Saridor e benvenuti sul terzo episodio di Jurassic World Evolution! Yeee! Allora, nello scorso episodio un Edmontossauro incazzato col mondo intero ha deciso di buttarmi giù una recensione, o meglio, voleva cercare ma non c'è riuscito. Sti scemi di guerra a tempo di pace invece, per facilitargli il compito, mi hanno obbligato a farlo scappare. Saremmo riusciti a riprenderlo? Boh, vediamo! Quindi? Mi dici cose, gioco? No? Allora, vediamo. Questo è... Ah, ciu! Elicottero! Ok, ecco il nostro fuggitivo. È ora di colpirlo e catturarlo. Maggiungi attività. Stiamo usando dardi letali, ma ricorda, il dinosauro non sa che è un'esercitazione, quindi guardati le spalle. Io ti chiudo perché vedo già lo stronzetto che... Se hai un problema sul modo in cui vi teniamo al sicuro, dottoressa. Ah, che parto! Il dinosauro è sedato al recinto sicuro. Come si fa? Sempre con la Q? Squadra di trasporto. Io lo seleziono e... Avrai bisogno della squadra di trasporto. Sì, l'ho già fatto, grazie. Ok. Siamo a posto? Me lo diceva anche. Idiota. La decubazione. Tosso di su. Ma perché non mi fai mai finire, gioco? Ah. Ok. Va bene. Per un milione va bene. Ecco. Lavoro finito. Una volta per tutte. Ascolta. Abbiamo ancora molto da imparare su come tenere questi animali... Sicuramente. Cercano continuamente nuovi modi di sfruttare le nostre debolezze. Vedremo chi arriverà per primo ai limiti delle proprie abilità. Noi o loro. Non abbassare la guardia. Grazie. È sempre stata la sfida più grande del complesso industriale giurassico. Sfruttamento contro sicurezza. L'immenso potenziale guadagna e l'immensa potenziale violenza. Esatto. Ok. Posso continuare? Per favore. Grazie. Dicevamo. Tu ti sei calmato? Sì. Si è placato. Allora. Una galleria panoramica. Giustamente ci vuole. Se io tipo la metto qua... Ok. Ne posso mettere più di una. Direi di sì. E... Ecco. Gioco. Grazie. Ok. Le abbiamo messe. Così vi vedete i dinosaurini. Ah ma che cretino è vero. Le devo alimentare con... Chiedo a Venia. Mettiamo. Una sottostazione che quasi quasi la potrei mettere qui. Turnica. Ok. E la attacchiamo qua. Sì. Io faccio cose intanto. Questo negozio di souvenir. Fast food. E... Un cesso. Non c'è altro? No c'è molto altro. Ma è tutto bloccato ancora. Posso incubare qualcosa? L'Edmonton mi costa 170. Questo 200. Questo 30. Senti. Fammene... Due di questi. Ah. Struzio minus. Mi piace. Rimangono già selezionati. Ok. Negozio di souvenir. Allora. Porta pranzo. Barbasol. 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 Sì. Mi ricordo. È quella schiuma da barba che nel primo Jurassic Park veniva usata per portare via gli embrioni. Sì. Costa 10. Eh no. La regola del commercio dice guadagno al 100%. Se costa 10. Io la devo vendere a 20. Adesso avete capito perché le cose costano così tanto in giro? È davvero un ricarico del 100%. Ok. Libera. Ciao. Buongiorno. Salve. Guardalo come arriva. Buongiorno. Benvenuto al mondo. Ok. Ah. Vedi. Ce n'erano due da liberare. Arriva di corsa anche lui. Ciao. Buongiorno. Benvenuto. Che versi. Ia. Oh signore. Ehi sono Isaac. Come procede? Ciao. Vado a dirti che imballo alcune cosette di cui voglio che tu faccia parte. Ceratosauro. Vedi ad aiutare la squadra vincente. La mia. Simpatico. 50% di genoma del ceratosaurus. Sì perché dovrei già avercelo. Credo. Cioè. Più o meno. Ascolta. Io vivo per lo spettacolo. E questi dinosauri sono il miglior spettacolo del pianeta. I parchi a tema devono attirare persone. E cosa c'è di meglio di nuovi dinosauri? Ho un cerato. Ovviamente. E' simpatico. Aggiungiamo un po' di dinosauri nuovi. Sì. Giusto. Però mi preoccupa molto. Lo stesso sta qua. L'ostruzione mimo che sta devendo? Va bene. Tanto impariamo cose. Allora. Guida veicolo. Ok. Suppongo che segui lì così. Eeeh. Come? Ok. Allora. Il cancello è lì. Fuori dalle balle. Levatevi. Allora. Scattiamo la foto. Oh. Bella foto. Oh. Ce l'abbiamo fatta. Grazie. E. Scoot. Come cacchio sta andando sta jeep? Ah. Ok. Ci sarebbero le strade che mi fai meno danni al mezzo. Poi li devo riparare io. Ok. Ok. Abbiamo il ceratosauro che è un carnivorous. Queste creature al nostro vantaggio oppure mostrarle come fenomeni da baraccone. Effettivamente tutti i torti non ce l'hai. Allora io dovrei fare una cosa. Dovrei fare un ceratosauro. Però se lo mollo qua. Dato che è un carnivoro. Succede un casino. Vabbè. Intanto facciamo il recinto. Come si costruisce un recinto? Così. Ah. Comodo. Poi lo facciamo. Tac. Così lo costruisco anche qua all'interno. La gente passa in giro. C'è il dinosauretto. Se lo vedono. Ok. Ora. Mi ci vorrà un... Sai questo contratto. Cancello. Questo contratto potrebbe rivelarsi molto vantaggioso per entrambi. Sì. Due dinosauri. Sì. Tanto lo devo fare. Posso metterle da nessuna parte? Qua. E posso metterne una anche di qua? Sì. Consciento. Sarà un po' difficile. Vabbè. Non sono magnifiche creature. Peccato che non c'è ancora un cazzo qua dentro. Tipo così. Potrebbe fallire. Ah. Ok. Incubazione di uno dei tuoi dinosauri è finita. Non ho mai detto che riportarli in vita sarebbe stato facile. Ma vaffanculo. Ah. Perché possono fallire se non sono al 100%. Ma vai a... Cagare sulla luna. E ciao anche a te. Continua così. Ottimo. E abbiamo guadagnato 250.000. Ho sbagliato. Tu hai dei dinosauri che i visitatori vogliono vedere quanto più da vicino possibile. Però non possono. Costruisci strutture che aumentino la visibilità mantenendo i visitatori a futuro dietro a un vetro di sicurezza. Sì. Ed è quello che stavo facendo. Si possono levare questi alberelli qua davanti. Ah. Ho capito. Aumenti il raggio. Infatti. Lo diminuisci. Questo serve per togliere? Un po' l'abbiamo tolto. Cos'è quest'occhio? Questo. Oh. Carino. Qua ti fa vederla. Portato dell'energia. Grazie. Questo incarico non è semplice. Ma nessuno ha mai detto che lo sarebbe stato. Ah. Stiamo rimodellando il mondo. Una mostra e uno spettacolo sull'ora di spavoloso. Hai fatto un lavoro impeccabile con quel genoma. Rifugio. Qui abbiamo bisogno di un rifugio. A tutti i costi. Ah. Questa è la cosa. Ho capito. Qua sono le entrate. Affamati. Assettati. Qua non voglio di comprare. Qua il divertimento. Qua il cesso. Vabbè. Senza cesso. Ragazzi. Ci sono tanti cespugli. Andate lì. 250.000 Ho avuto un mancamento. Perchè di contratti? Io posso richiedere un contratto? Che magari me lo da semplice. Ah. Dottoressa 2. Ecco il nuovo direttore delle operazioni. Lo so a cavo. Dottoressa 2. Gestisco la divisione sviluppo scientifico. Ok. Hai bisogno di farti una reputazione nella divisione sviluppo scientifico. C'è una bellezza. Ma che simpatico che sei. Che significa gestire la popolazione dei nostri dinosauri e vederli prosperare. C'è qualcosa che costa meno? Andiamo qua. Costa meno. Esatto. Ah. Ho un'opportunità interessante da sottoporti. Sì. Ci permetterà di collaborare per creare la vita nella sua forma più pura. Se hai ascoltato le parole del dottor Malcolm sai quanto questo sia importante per noi e per me. Ha un piatto. Ne ricordo vagamente qualcosa. No. Non ora. Lo facciamo dopo. oh cazzo va bene va bene ok cerchiamo un po di dare una svolta a questa situazione quindi non mi ricordo più un checchio quando creerò il ceratosauro lo mollo qui e lui rimane qui userò una squadra a c u anzi l'elicottero per sedarlo una volta sedato poi lo piglio e lo sbatto qua dentro lo prendo con le squadre di trasporto ovviamente nel mettere dovremmo aspettare che da 290 arrivare dovremmo arrivare a tanto oh finalmente e abbiamo fatto un triceratopo dobbiamo e ciao cara sì perché sono tutte femmine teoria dobbiamo aumentare assolutamente i nostri introiti e via sto puntatore fastidioso ciao oh buongiorno ok apriamo il cancello e tu te ne vai e chiudi e voilà ok 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 ed è giunto il momento di incubare questo benedetto ceratosauro tu vedi di fare il bravo eh perché non c'ho voglia di rincorrerti per tutto il parco ok e c'è la madonna guarda come se la gusta piace il cespuglietto eh come suona male detta così vabbè dettagli oh ed abbiamo il ceratosauro ecco adesso lo molliamo e scoppia un casino sicuro guarda come arriva mamma mia sto qua quante bestemmie ciao ciao fai il bravo ecco già fiuta l'aria ok prevedo casini allora subito quante bestemmie sto qua ce lo vedo già allora allora fai un po vedere ah beh oh e ci è andato giù come una merda meno male squadra di trasporto lo prendo da qui e mettilo lì ed eccolo che arriva il tempo è perfetto guarda piove pure arda lì incazzato con la vita e abbiamo completato il genoma del ceratosauro wow bevi e non rompere i coglioni possibilmente fammi vedere sì gli va bene tutto bene molto bene vabbè è una bella soglia di comfort teoricamente non dovrebbe rompere troppo le palle troppo ok la missione mi chiede di ricercare il centro d'abbigliamento e andiamo a cercare il centro abbigliamento così sei contento miglioramenti edifici non è questo devo costruire un negozio d'abbigliamento fornisce energia una galleria panoramica che ha già fatto da tipo una vita ma vabbè dettagli vabbè sì certo interessante allora negozio d'abbigliamento cosa offre la ditta cappello a tema camicia a tema tuttina a tema io metto la camicia e te la vendo a venti perché sono stronzo nell'anima ok la mangiatoia con esche vive poi basta cioè non lo so io mangiatoia esche vive che l'abbiamo vista prima dove te la metto se sono vivevo corrono ovunque e io te la metto qua tac eccolo trasmissione in arrivo dracorex abbiamo sbloccato il dracorex e ce l'abbiamo fatta poi andremo a cercarci anche il dracorex e anche stavolta ce l'abbiamo fatta ovviamente se non succede nulla nel gioco succede qualcosa nel video infatti purtroppo le ultime due ore e mezza più o meno di video è saltato l'audio non so perché e non mi metto a rifare tutto anche perché i salvataggi si sovrascrivono dovrei iniziare la partita e non mi sembra il caso dai detto fatto abbiamo portato a termine anche questa missione e noi ci vedremo in un prossimo episodio ciao ciao